Eleonora Giorgia Verissimo, la lotta al tumore è sempre più difficile, voglio darvi l'ultimo saluto. Eleonora Giorgi non si arrende. Stiamo lottando con tutte le forze, dice a, Verissimo, raccontando del tumore al pancreas scoperto alla fine di ottobre dell'anno scorso. Le cure anno funzionano solo parzialmente nell'ultimo ciclo di terapie, confida l'attrice 70enne durante la puntata odierna del programma di Canale 5. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina spiega. Sono arrivate delle sorpresine, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente. Giorgi rivela che la malattia continua a espandersi e a creare nuove metastasi. Nei prossimi giorni mi sottoporrò a degli esami cruciali, le provette arriveranno in America prosegue. A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti. Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore, aggiunge tra le commozioni del pubblico in studio.